oggi facciamo il coniglio in porchetta una ricetta che è semplice semplice se ci facciamo aiutare da un macellaio naturalmente perché per esempio questo qui è il pezzo della lombata del coniglio già disossato la cosa da fare è quella di toccare per sentire se ci sono ancora degli ossicini ecco in questo caso qui qui l'ho trovati quindi andiamo a toglierli perché poi non sarebbe piacevole trovarsi sotto i denti ecco qui partiamo dalle foglie di salvia che spezzettiamo a mano così abbondante considerate almeno una decina di foglioline rosmarino andiamo quindi controsenso nel senso che è il contrario in modo tale da poter togliere tutti gli aghi quindi le distribuiamo cerchiamo di farlo in modo uniforme ecco così ecco fatto aglio 23 spicchi qui è a vostro gusto potete abbondare come metterne poco a me piace e quindi ne metterò molto ecco direi che due spicchi sono più che sufficienti vedete riusciamo a distribuirlo in modo abbastanza uniforme a questo punto il sale e il pepe andiamo a salare se avete le possibilità macinato al momento altrimenti anche il pepe in polvere va bene e ora a questo punto andiamo a chiudere il nostro coniglio quindi cominciamo a fare proprio così proprio un rotolo vedete a questo punto dobbiamo legare per riuscire a mantenere la forma primo nodo quindi chiudiamo non dobbiamo stringere troppo e non in realtà non stiamo facendo delle salsicci ecco a questo punto andiamo avanti e quindi teniamo il dito così facciamo passare da sotto vedete operazione passare da sotto quindi qui spero che si riesca a vedere passiamo sotto così e andiamo avanti vedete è sufficiente fare questa operazione e proseguiamo ancora puntiamo il dito facciamo passare il filo da sotto così e come abbiamo fatto prima passiamo da sotto diciamo che a questo punto possiamo arrivare alla parte terminale quindi così alziamo facciamo passare sotto la parte orizzontale abbiamo fatta ora invece chiudiamo la parte laterale quindi così vedete andiamo a chiudere con un nodo a questo punto possiamo tagliare un pezzo ecco fatto e andiamo a chiudere questo pezzettino andiamo a fasciare con della pancetta questa è della pancetta che abbiamo affettato fine perché non l'abbiamo messa sotto la pancetta non perché ce ne siamo dimenticati ma perché in realtà poi questa pancetta qui noi non la serviremo insieme perché tenderà a bruciarsi naturalmente quello che è importante è che manterrà la morbidezza delle carni e rilascerà molto sapore noi andiamo a fasciare chiudiamo anche la parte laterale siamo pronti mettiamo un filo d'olio nella nostra tegliettina da forno non tanto non serve tanto prendiamo il nostro coniglio ecco qua e lo appoggiamo nella padella così come avete visto io non ho aggiunto sale non ho aggiunto niente perché naturalmente la pancetta è salata andiamo in forno e direi che 40 minuti circa comunque dipende poi dal vostro forno 190 gradi andiamo a vedere il nostro coniglio ma già lo vedo da qua giù che è pronto vedete quello che dicevo prima la pancetta si è praticamente quasi carbonizzata prendiamo il nostro pezzettino e cominciamo a togliere la pancetta soprattutto la ecco la parte che si è quasi carbonizzata andiamo a togliere il filo cerchiamo di rifilare la cottura è assolutamente perfetta guardate è ancora umido quindi non si è seccato assolutamente perfetto questo gocciolino invece lo metto su questa fettina qui che sarà la fettina che andrò a assaggiare è veramente buono iscriviti al canale iscriviti al canale